Ciao a tutti, vi saluto e vi introduco al webinar di oggi pomeriggio Progettare e realizzare il sito web di un comune Alla nostra seconda edizione questo ciclo di webinar composto da quattro webinar è organizzato da Agid e Formets.pa all'interno del progetto Informazione e formazione per la transizione digitale Italia Login in particolare fa riferimento alle attività della linea 1 gestire la trasformazione digitale Allora vi do appunto il buonasera, vedo che state entrando numerosi a questo webinar abbiamo avuto 895 iscritti vi ricordo che questo webinar è organizzato in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale di cui appunto sentirete anche dei rappresentanti che sono esperti del nostro ciclo Allora il corso diciamo sempre che è prioritariamente rivolto a tutti coloro che nei comuni oppure nelle società in house presso i fornitori si occupano di realizzare e aggiornare i siti web delle amministrazioni ma naturalmente questo è in via prioritaria perché naturalmente accettiamo le iscrizioni anche di una platea più ampia di interessati alle tematiche che tratteremo siccome questa è una delle cose che ci chiedete di più nelle domande che fate all'Helpdesk lo dico da subito possono iscriversi tutti quanti fino appunto a saturare il numero massimo di mille persone per ognuna delle nostre aule le sessioni previste sono quattro come vi dicevo quattro webinar e saranno tutte della durata di due ore ciascuno sempre il martedì sempre dalle 14.30 alle 16.30 e vi accompagneremo fino al 30 novembre per chi vorrà partecipare a tutti i nostri eventi verrà inviato per i primi due webinar negli intervalli tra i primi due webinar un questionario di ingresso in cui vi chiederemo di rispondere a delle domande che hanno l'obiettivo di capire qual è appunto la vostra conoscenza iniziale dei temi che noi tratteremo l'attestato di frequenza non viene scaricato direttamente dal sistema di eventi PA come siete abituati a fare per il singolo webinar bensì per questi cicli che appunto prevedono più eventi in particolare quattro l'attestato verrà inviato a chi ha partecipato ad almeno tre dei nostri quattro webinar previsti e viene inviato alla fine di tutto il ciclo ed è direttamente inviato a cura di Agide quindi lo riceverete sulla vostra casella di posta quella che avete indicato quando vi siete profilati su DFP Out e poi vi siete iscritti a eventi PA quindi siccome molti ci chiedono l'attestato vi diciamo di avere pazienza e di aspettare la fine del ciclo e lo riceverete automaticamente allora passando invece al programma di oggi e vi illustro rapidamente il programma in particolare diciamo oggi parleremo e ci sarà una breve introduzione al corso ma oggi ci sarà diciamo un primo approccio a come progettare e realizzare appunto il sito di un comune quindi si farà riferimento alle linee guida che ci sono appunto su questo tema si parlerà della metodologia di progettazione proposta da Designers Italia e si parlerà di quali sono le attività da svolgere e quali gli strumenti concreti che Designers Italia mette a disposizione su chi ha i compiti di ideare e progettare servizi pubblici digitali per la PA in particolare voi sapete che noi introduciamo sempre una breve pausa fra le nostre comunicazioni oggi gli esperti sono tre sono quelli che vedete appunto nella slide di riferimento e vi dico appunto che Claudio Celeghin di Agid vi parlerà in particolare delle nuove linee guida CAD sui servizi web della PA poi seguirà Marco Maria Pedrazzo del Dipartimento per la Trasformazione Digitale che parla di progettare i servizi pubblici digitali l'approccio di Designers Italia e lo svilupperà secondo due sottotemi che appunto sono indicati nel programma sulla pagina di Eventi PA ci saranno degli spazi in cui accoglieremo le domande che voi vorrete fare in chat e le sottoporremo agli esperti per avere delle risposte poi alle 15.30 è prevista una pausa caffè di 10 minuti riprenderemo appunto 10 minuti dopo con Maria Cristina Caratozzolo del Dipartimento per la Trasformazione Digitale che ci parlerà dei kit di Designers Italia e quindi ci illustra gli strumenti per la progettazione di un sito web e andremo alle 16.15 verso la chiusura sempre con uno spazio prima riservato alle domande che ancora vi avranno sollecitato appunto gli interventi della nostra esperta prevediamo di concludere alle 16.30 e quindi di ridarci appuntamento poi a martedì prossimo io vi ricordo appunto che potete porre le domande in chat io le raccoglierò man mano che voi le formulate e le riproporrò all'esperto nel momento diciamo che abbiamo previsto proprio perché risponda vi ricordo anche che vi segnalerò in chat una community di Designers Italia di riferimento a cui potete iscrivervi e avere diciamo degli scambi con figure che diciamo sono coinvolte in questo e in altri argomenti cioè nello sviluppo appunto di siti web e di servizi per di servizi digitali delle amministrazioni quindi vi segnalerò il link in chat mano a mano che andiamo avanti allora io darei la parola se ho dimenticato qualcosa diciamo ve la ricorderò mano a mano in chat oppure quando intervengo prossimamente penso di avervi detto tutto lascio la parola a Claudio Celegin vediamo se Claudio collega webcam e microfono sì se provi a parlare spero che mi sentiate buongiorno sì ti sentiamo quindi io sparisco buona comunità buongiorno a tutti vedo che il numero dei partecipanti continua ad aumentare ed è molto come dire molto interessante già questo dato perché vuol dire che la sensibilità e l'attenzione delle pubbliche amministrazioni su questo tema è crescente allora io mi chiamo Claudio Celegin sono responsabile del servizio sviluppo web communities di Agid dell'area trasformazione digitale e vi parlerò nel mio breve intervento di quello che è insomma delle linee guida ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale linee guida appunto sui per il design dei servizi della pubblica amministrazione e dei siti web cercando magari di fare un po' di chiarezza su sulle tante linee guida che si sono succedute in questi in questi in questo decennio allora le linee guida per i servizi web della PA sono previste dal codice diciamo le linee guida in generale sono previste dal codice dell'amministrazione digitale articolo 71 in particolare poi vedremo nel prosieguo della presentazione sono previste nella nell'articolo più dettagliatamente si va fanno riferimento all'articolo 53 e all'articolo 7 e indicano sostanzialmente come progettare e realizzare servizi web e vorrei porre l'attenzione subito su una parola chiave che è quella della progettazione perché sino perché si parla spesso di linee guida come compliance a un determinato template ma c'è molto altro al di là del template anzi è forse la parte più importante quella della progettazione e queste linee guida hanno avuto una consultazione pubblica che è terminata lo scorso 14 giugno e sono disponibili su ToxItalia e sono state curate da anche dalle persone che fanno parte di questo dai regatori di questo webinar comunque da Agid e dal Ministero di Innovazione Digitale Dipartimento le linee guida sono destinate essenzialmente alle pubbliche amministrazioni ai gestori di servizi pubblici e insomma a tutto quello che poi comprende il decreto legislativo numero 175 e comunque insomma sono fatte sostanzialmente per le pubbliche amministrazioni la loro la loro la loro implementazione è rilevante ai fini anche della misurazione della valutazione delle performance però ci terrei anche a dire che al di là di questo elemento di come dire di adempimento normativo c'è una c'è un valore che va ben oltre a quello che che è il fatto di doverlo fare perché se no non mi valutano adeguatamente le performance di dirigente eccetera eccetera queste queste attività vanno svolte perché perché siamo un ente pubblico e dobbiamo fornire dei servizi ai cittadini che siano all'altezza diciamo di 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 un'esperienza che i cittadini stessi hanno nei confronti di tutto quanto quello che riguarda l'ambito privato insomma in termini di facilità d'uso eccetera e allora come dicevo le linee guida di design per i servizi web della PA sono state messe in consultazione abbiamo sentito il garante per la per la privacy abbiamo acquisito il parere della conferenza unificata Stato-Regioni e abbiamo abbiamo tra l'altro anche mandato queste per regolamento queste queste linee guida vanno alle alla Commissione Europea sono per avere anche un parere della della Commissione Europea e e diventeranno efficaci dopo la loro pubblicazione su un'apposita sezione del sito Agid e ne verrà data comunicazione alla gazzetta ufficiale anticipo subito un'eventuale domanda non abbiamo ancora cioè diciamo non abbiamo ancora tempi certi su quando saranno pubblicate però auspichiamo che ciò possa avvenire nei prossimi nei prossimi mesi dicevo il codice dell'amministrazione digitale parla di di siti web in particolare all'articolo 7 l'articolo 53 e 54 ci soffermeremo più tardi nella seconda parte di questa presentazione sull'articolo 53 sulla quale noi abbiamo basato sostanzialmente queste brevissime perché forse qualcuno di voi le ha viste sono molto brevi volutamente molto brevi molto stringate come linee guida ma a differenza di altre linee guida ai sensi dell'articolo 71 e poi ecco vorrei prima di passare a vedere un po' più approfonditamente le linee guida queste ultime vorrei cercare di fare un po' di chiarezza su quella che è stata l'evoluzione delle linee guida negli ultimi dieci anni perché si sono sovrapposte sovrapposte si sono susseguite una serie di linee guida generando forse a volte un po' di comprensibile confusione o insomma non perfetta chiarezza allora diciamo per non andare troppo indietro partiamo dalle linee guida del 2011 cioè dettate dalla direttiva del ministro per la pubblica amministrazione del 2009 vengono poi emesse due anni dopo è un lavoro che ha curato funzione pubblica Formez ha partecipato anche l'Agid e anzi all'epoca era DigitPA per la precisione poi nel 2015 con la circolare del ministro Madia sono state emesse le linee guida di design per i siti web della pubblica amministrazione in versione alfa realizzate da Agid dove si parlava per la prima volta anche di come far visualizzare determinati siti determinate proprio la visualizzazione il template ecco la parte più superficiale se così vogliamo dire la parte più evidente successivamente è uscito è stato aggiornato il degredo legislativo del 2005 specificando che appunto la necessità di emettere regole tecniche di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui l'articolo 71 e queste linee guida però non erano più uno strumento di indirizzo di best practice vorrei dire ma diventavano delle si chiamavano linee guida si chiamano linee guida ma hanno in questo hanno un connotato più stringente in termini di implementazione e di osservanza nel frattempo praticamente nello stesso anno con l'allora team digitale con l'allora scusatemi perché è andata indietro la presentazione con l'allora team digitale ora di partimento trasformazione digitale Agide abbiamo creato abbiamo stato creato questo Designers Italia dove compariva ulteriormente la parola linee guida che però erano uno strumento molto sicuramente molto è tuttora uno strumento molto approfondito molto pieno ricchissimo di informazioni utili e valide ma diciamo non avevano ancora non erano ancora indicate come strumento come reference vorrei dire obbligatoria nell'implementazione dei siti web e con la pubblicazione con la redazione delle linee guida che sono state pubblicate pubblicate o meglio messe in pubblicazione in consultazione quest'anno ai sensi dell'articolo 71 vogliamo proprio creare una un legame tra ciò che deve essere fatto in linea di principio progettuale metodologico e ciò che può essere preso come riferimento che in certi casi deve essere preso come riferimento visto che è tutto disponibile all'interno di designers italia quindi queste linee guida sono state redatte insieme al dipartimento in modo così molto sintetico e facendo proprio dando per dando dei dando come dire facendo riferimento a designers italia come strumento per indicare come determinate elementi o metodologie dovessero essere effettivamente implementate quindi se vogliamo un po' semplificare molto in estremo le linee guida di design ai sensi dell'articolo 71 del CAD spiegano che cosa fare qui c'è una piccola sovrapposizione dell'immagine mentre su designers viene spiegato come certe attività certe modalità di progettazione possono essere effettivamente implementate scorro dunque le linee guida quindi presentano un elenco di regole tecniche un elenco di elementi di voci che per la cui implementazione di dettaglio potranno essere utilizzate come strumento di supporto di strumenti forniti sul sito di designers italia ripeto non tutto ne siamo consapevoli insomma non è per l'aspetto progettuale ci sono sicuramente moltissimi validissimi strumenti già insomma da molto tempo sappiamo poi però che per quanto riguarda ad esempio alcuni template insomma saranno presto disponibili aggiornamenti ma su questo poi lascio la parola ai colleghi che parleranno di designers in modo più approfondito allora venendo le nostre linee guida dicevo appunto nell'articolo 53 si parla di accessibilità di caratteristiche dei siti web devono essere accessibili molto usabili facilmente reperibili una completezza di informazione che però deve sposarsi con una chiarezza del linguaggio una semplicità di consultazione e quant'altro queste sono indicazioni che sono presenti all'interno di questo articolo 53 ora molte di queste indicazioni ripeto sono state poi dettagliate sul come fare che cosa vuol dire essere chiari nel linguaggio potremmo fare un convegno soltanto su questo lo sappiamo benissimo noi che siamo nella pubblica amministrazione quanto è difficile riuscire ad essere chiari pur non perdendo credibilità autorevolezza ecco è un tema insomma su cui magari si potrebbe sicuramente discutere a lungo si è discusso a lungo ci sono fiumi di letteratura sull'argomento però ecco su designers italia viene dato vengono dati alcuni strumenti quindi noi ci siamo in queste linee guida abbiamo indicato e per alcuni aspetti per la prima volta in modo imperativo di fare attenzione a certi punti nella progettazione nella pubblicazione nella gestione nel monitoraggio dei siti web ad esempio comprendere i bisogni dell'utente costruire interfaccia usabile osservare come gli utenti interagiscono con il servizio per un miglioramento costante bene il osservare come gli utenti interagiscono non è facilissimo ma ci sono gli strumenti è necessario mappare le funzioni creare dei prototipi che vanno testati per capirne la validità per migliorarle la validità prima di essere messi online oppure ad esempio si dovrebbe basare l'architettura delle informazioni sulle ricerche degli utenti e non su quella è un tema su cui siamo tornati tantissime volte e non basare l'architettura delle informazioni sull'organizzazione interna dell'amministrazione che è il classico errore che si fa ma su quello che stanno effettivamente cercando gli utenti e poi si devono condurre dei test di usabilità è chiaro sono tutte attività che comportano un po' di effort da parte dell'amministrazione però ed essere abbastanza esigenti nei confronti del fornitore che insomma deve fornire un sito web con determinate con determinate caratteristiche la semplicità di consultazione ed uso si deve utilizzare un linguaggio e un'organizzazione dei contenuti web adeguato all'utente destinatario attenzione stiamo parlando di utente destinatario non necessariamente dell'utente del cittadino generico quindi se ci sono siti web che hanno un'utenza specifica magari molto competente su un determinato argomento l'importante che i contenuti siano adeguati all'utente destinatario se l'utente destinatario è il cittadino ha diritto ad avere un linguaggio a diciamo interfacciarsi con un linguaggio dell'amministrazione sufficientemente semplice e comprensibile deve rendersi facilmente trovabile dai motori di ricerca in modo tale che il contenuto pubblicato sia facilmente trovabile e poi mi mancano 5 minuti la finalità un'altra delle finalità che noi abbiamo messo è quella di analizzare e migliorare l'esperienza d'uso dei servizi digitali mediante la rilevazione dei dati di fruizione cosa vuol dire questo? vuol dire ad esempio mettere in piedi o mettere in piedi attivare un sistema di monitoraggio dei siti web per la raccolta per l'analisi dei dati e la condivisione di questi dati quindi si dovrebbe condurre un'attività di manutenzione evolutiva dei servizi online con dei test di usabilità ecco noi come Agile abbiamo costruito Web Analytics Italia che è una piattaforma open source gratuita un servizio SAS a disposizione delle pubbliche amministrazioni per il monitoraggio statistico dei siti di come il cittadino sta utilizzando un sito quindi questo è molto importante che venga fatto non è certamente sufficiente non è esaustivo voglio dire in termini di analisi degli utenti ricerca sugli utenti ma è un elemento quantitativo da tenere in considerazione facile a costo zero richiede soltanto una consapevolezza da parte della direzione da parte dell'ufficio comunicazione insomma del servizio preposto alla gestione del sito e la condivisione al proprio interno di questi dati per far conoscere a chi di competenza che certi contenuti dovrebbero essere magari messi o in minore visibilità oppure essere messi particolarmente in evidenza quindi ecco poi vabbè ci sono indicazioni specifiche sul fatto di garantire la presenza di contenuti obbligatori per la pubblica amministrazione che sono abbiamo ribadito che è necessario la presenza tra le altre cose del link alla dichiarazione di accessibilità e la dichiarazione di accessibilità e le informazioni anche derivate dal monitoraggio statistico sul singolo sito questa tra l'altro è una è una indicazione che è stata fornita sin dal 2011 con quelle prime linee guida che vi facevo vedere a suo tempo cioè che il come dire il nelle linee guida del 2011 c'era scritto appunto che dovevano essere pubblicati i dati statistici del sito web perché perché la razio è quella di far capire di comunicare con trasparenza al cittadino che se un determinato sito ha poche visite sostanzialmente è abbastanza inutile mantenerlo in vita a meno che non sia un sito storico un sito di un particolare di un particolare ambito tematico però sappiamo perfettamente che esistono migliaia decine di migliaia di siti web delle pubbliche amministrazioni siti web tematici che abbandonati a se stessi a cui però il cittadino accede tramite google tramite casualmente e magari quelle informazioni contenute in quel sito sono obsolete e questo non è un modo corretto di fornire un servizio anche se solo informativo alle amministrazioni e ai cittadini e poi ecco qui abbiamo scritto che abbiamo indicato anche la necessità di pubblicare la data dell'ultimo aggiornamento o verifica del contenuto tramite un cms questo questo è insomma è un widget che si può tranquillamente impostare e quindi sarebbe molto importante che ci sia la data dell'ultimo aggiornamento e verifica del contenuto perché insomma dobbiamo sapere se quel contenuto effettivamente è ancora valido oppure è un contenuto di tanto tempo fa che non ci consente più di essere di non avere informazioni affidabili insomma ecco per quanto mi riguarda questa insomma era una presentazione molto sintetica delle di queste linee guida come vi dicevo sono linee guida ai sensi dell'articolo 71 del CAD fanno riferimento sulla parte implementativa a Designers Italia e a questo proposito io vabbè si poi dopo si parla di scusatemi si parla poi dopo ovviamente di mettere a disposizione delle interfacce semplici da utilizzare su ogni tipo di dispositivo e questa questione delle interfacce è stata ben affrontata su Designers Italia in modo particolare per i siti dei comuni e delle scuole e ovviamente queste queste interfacce devono essere va da sé come minimo responsive ma oltre anche devono essere accessibili eccetera e su questo io darei su Designers Italia per un approfondimento se non ci sono particolari domande passerei la parola al collega Marco Pedrazzo del dipartimento grazie per l'attenzione e buon amore c'è c'è una domanda Claudio non so se vuoi rispondere adesso o dopo occupandomi di trasparenza occupandomi di trasparenza mi risulta la vedi che l'obbligo della data dell'ultimo aggiornamento risulterebbe solo per i dati obbligo di pubblicazione in amministrazione trasparente bisogna quindi inserire inserire in ogni pagina il sito allora sì allora dunque inserire almeno nei nei siti web che che vengono gestiti dai CMS inserire la data di pubblicazione non è un'operazione manuale particolarmente complessa cioè basta semplicemente impostare o fare impostare dal proprio fornitore l'opzione per cui nell'header possibilmente all'inizio del testo scritto all'inizio del testo HTML prima del titolo o insomma in concomitanza in vicinanza del titolo ci sia la data di ultimo aggiornamento o di ultima verifica del testo e credo ne conveniate anche voi un'informazione molto utile per un cittadino che cerca un'informazione su un sito e che piove cioè arriva a terra a terra sulla pagina interna di un sito la prima cosa che vuole sapere è ok mi dicono di dover fare determinate cose ma questo testo è aggiornato quindi insomma è importante farlo su ciascuna pagina del sito poi appunto ci sono pagine HTML statiche dove mi rendo conto che può essere più complicato però anche lì se noi abbiamo un monitoraggio abbiamo attivato un sistema di monitoraggio e non voglio togliere altri minuti al collega abbiamo attivato un sistema di monitoraggio sappiamo quali sono le pagine più frequentemente utilizzate dagli utenti su quello dovremmo fare particolare attenzione e magari renderle insomma arricchirle anche di questa informazione lascio la parola al collega Marco Pedrazzo grazie buongiorno a tutti spero che mi sentiate e mi vediate rubo un secondo solo per condividere lo schermo se mi è consentito eccoci spero che mi possiate vedere innanzitutto è un è un momento bellissimo per me essere davanti a insomma a 500 persone che si interessano di quali sono gli approcci e i principi alla progettazione di un sito web di un comune quello che cercheremo di fare nei prossimi due interventi io e Cristina sarà quello da una parte di introdurvi appunto a quella che è la proposta di Designers Italia in termini di approccio al progetto e poi Cristina scenderà invece più nel dettaglio del processo di progettazione di come i kit che forniamo possono supportarlo io mi chiamo Marco Maria Pedrazzo sono al dipartimento da aprile di quest'anno e mi occupo del coordinamento dei progettisti che lavorano ai diversi progetti del dipartimento partirei subito con l'introduzione se nel frattempo dalla regia possono condividere le prime due survey a tutto l'audience in modo che man mano che raccontiamo queste cose possano essere completati innanzitutto il ruolo del dipartimento per capire un pochettino il mondo da cui veniamo il dipartimento è la struttura centrale che si occupa di promuovere e coordinare le azioni di governo relativamente alla trasformazione digitale a destra vedete una serie di progetti che credo vi possano risuonare l'identità digitale l'APIO designers e developers italia cloud eccetera uno di questi progetti che in particolare è quello che vi raccontiamo vi raccontiamo oggi è quello legato a designers italia che ha come obiettivo primario quello di diffondere la cultura della progettazione che Claudio richiamava prima come elemento fondante molto spesso quando si parla di tecnologia ci si focalizza molto sulla realizzazione e sull'implementazione ma l'aspetto progettuale non può essere scisso da questo e lo fa in due modi fondamentalmente da una parte attraverso una community che vuole essere l'anello di congiunzione tra il mondo della pubblica amministrazione nel mondo dei fornitori e rappresentare le istanze del cittadino in questo processo dall'altra parte con degli strumenti più pratici i modelli gli strumenti e le linee guida di cui accennava di cui accennava Claudio prima e che sono sempre in costante evoluzione da un punto di vista di mi dicono tra l'altro da sotto che vedo che i sondaggi coprono le slide se ci potete dare una mano di Marco dovresti attendere un secondo che smettano di votare così li possiamo togliere dalla sovraimpressione perché inevitabilmente coprono le tue slide fantastico se volete che intrattenga il pubblico nel frattempo procedo no no sta accadendo tutto abbastanza velocemente e quindi si tratta solo di aspettare un istante perfetto nel frattempo siamo ancora a un inquadramento per farvi capire il dipartimento come dicevo prima è una struttura di governo che è inquadrata nelle dipendenze del ministro per l'innovazione tecnologica e funge una funzione di design authority che vuol dire l'indirizzo di dove deve andare la trasformazione digitale appunto in collaborazione tra il dipartimento e gli amici di Agid questo progetto designers italia affronta il tema dei toolkit e del supporto un minimo di contesto normativo al di là del CAD di cui ha già ampiamente parlato Claudio le iniziative e il lavoro che portiamo avanti non avviene sicuramente nel vuoto ma avviene a partire da indirizzi europei molto alti con un orizzonte molto lungo fino a scendere ai piani ai piani più pratici a livello nazionale partirei a raccontarvi brevemente il digital compass l'Unione Europea si aspetta dai singoli stati che nel 2030 il 100% dei servizi pubblici principali sia disponibile online sia per le imprese che per i cittadini che il 100% dei cittadini europei abbia accesso alle cartelle cliniche e che l'80% dei cittadini utilizzi correntemente l'identificazione digitale se scendiamo di un gradino single digital gateway iniziativa sempre a livello europeo basata sul regolamento UE 2018 1724 identifica 21 servizi le cui procedure devono essere completate interamente online in tutti i paesi dell'UE e qui iniziamo a vedere la dicotomia tra servizio e procedura servizio quello che vede il cittadino la procedura è quello che l'amministrazione mette in piedi per poter far fare al cittadino quello che gli è necessario inoltre tutte le procedure online dovranno essere rese accessibili agli utenti trasfrontalieri e il principio one solely dovrà essere applicato ugualmente sempre a tutti i cittadini dell'UE questo perché poi la commissione europea ha istituito tramite il government benchmark un sistema di misura di tutta una serie di pillar che vanno a individuare quali sono le metriche chiave nei processi di digitalizzazione e queste parlano di centralità dell'utente di trasparenza e qualità dell'informazione parlano di strumenti digitali e parlano di mobilità tra i paesi quindi quanto un cittadino può accedere a un servizio quando si trova al di fuori del territorio nazionale in tutto questo si inserisce il cado di cui richiamo alcuni elementi salienti minimi per cui che cita il fatto che chiunque ha diritto a fruire dei servizi erogati in forma digitale ed integrata che le pubbliche amministrazioni che realizzano siti devono rispettare i principi di accessibilità usabilità reperibilità di chiarezza del linguaggio di semplicità di consultazione e che nel farlo sia quando acquisiscono programmi informatici sia quando appunto sviluppano software devono basarsi su valutazioni comparative tecnico-economiche per poter applicare i principi del riuso della neutralità tecnologica che vuol dire sostanzialmente da una parte cercare di basarsi su codice già scritto per altre pubbliche amministrazioni dall'altra qualora ne venga implementato di nuovo rimetterlo a disposizione sotto licenza aperta e poi su questo insiste ancora il piano triennale con tutta una serie di principi più di dettaglio su cui glisso velocemente quello che cambia un pochettino forse il prossimo orizzonte è il tema del PNRR perché sicuramente è molto informativo il fatto che l'asse 1 missione 1 componente 1 quindi l'inizio il cardine di tutto il recovery fund si poggia sulla digitalizzazione l'innovazione e la sicurezza nelle pubbliche amministrazioni quindi di fatto voi oggi sarete tra gli attori chiave dei prossimi 5 anni di recovery fund e qui veniamo al contesto da un punto di vista invece più del lato del problema la completezza dei servizi online in Italia è molto alta addirittura leggermente superiore alla media europea mentre chi utilizza costantemente quindi la percentuale di utenti che concludono una transazione con la pubblica amministrazione esclusivamente online è meno della metà della media europea questo riflette di fatto la caratteristica principale dello Stato italiano che è la frammentazione in un arcipelago di oltre 22.000 amministrazioni e questo è molto evidente se si mettono a confronto le interfacce a cui il cittadino accede quindi se volessimo riassumere il problema che affrontiamo è quello di un'erogazione dei servizi disomogenea e frammentata e quindi risultante poco equa ed eventualmente inclusiva il problema per come lo identifichiamo in Designers Italia è quella della mancanza dell'approccio centrato sull'utente e qui veniamo all'approccio il design dei servizi aiuta a invertire il punto di vista l'approccio che proponiamo quindi è quello non di ribaltare la struttura dell'istituzione sull'utente ma al contrario andare a individuare i bisogni del cittadino per poi capire come le procedure della pubblica amministrazione possono presentarsi attraverso i canali digitali nei suoi confronti chiaramente la chiave di volta di questo è il termine design che è un concetto molto spesso frainteso anche la definizione della Treccani rimanda molto di più al mondo del design del prodotto e del design del mobile la definizione che più ci piace è quella di Herbert Simon che è un famoso è un premio Nobel per l'economia è uno dei padri fondatori dell'informatica è che il design è la disciplina che si occupa di come le cose dovrebbero o potrebbero essere e lo contrappone alla scienza che invece si occupa di come le cose sono ad oggi e fino a poco tempo fa non esistevano competenze apposite nelle pubbliche amministrazioni se si pensa che il team di trasformazione digitale nasce nel 2016 con la struttura commissariale il team di trasformazione digitale per capirci è l'antesignano del dipartimento in questo processo chiaramente servono una serie di competenze chiave che passano sotto il nome di ricercatori service designer designer di contenuti dell'interazione dell'esperienza dell'interfaccia eccetera eccetera e qui vorrei fissare un po' di punti in primis per chiarire design non significa disegnare design nell'accezione corretta del termine significa progettare una soluzione e l'approccio che prendiamo in designers italia è quello di andare a cercare attraverso il nostro operato un punto d'incontro tra il mondo delle persone il mondo delle procedure amministrative e il mondo della tecnologia che permette di fare un ponte tra le due per farlo servono alcuni punti fissi che sono quello di operare in modo sistemico che vuol dire considerare tutti gli elementi preesistenti anche e soprattutto le varie amministrazioni che vengono toccate ogni qualvolta che si muove qualcosa nel mondo della progettazione digitale utente centrico quindi mettere al centro i cittadini di questo di questo ragionamento e nel nostro caso anche mettere al centro gli operatori pubblici perché tutte le volte che costruiamo uno dei nostri kit uno dei nostri supporti chiaramente guardiamo a voi nel modo di farlo l'approccio deve essere partecipato cioè che va a coinvolgere gli stakeholder durante il processo di sviluppo e non alla fine a prodotto concluso aperto secondo le logiche del riuso e condivisione di cui parlavamo prima e iterativo per andare a innescare dinamiche di miglioramento continuo e quindi arriviamo a un punto qui che secondo me è molto importante sottolineare che la digitalizzazione non è la digitizzazione che oltre a essere una parola molto difficile da pronunciare per me rappresenta una piccolissima parte di questo mondo cioè qui non parliamo di convertire dati informazioni o procedure esistenti semplicemente passandole dall'analogico al digitale parliamo del processo di ristrutturazione dei processi supportati dal digitale la domanda che ci dobbiamo porre ogni volta è senza il digitale potrei proporre quello che sto proponendo adesso se la risposta è sì siamo in digitalizzazione se la risposta è no stiamo facendo una mera conversione e quindi il design risulta di fatto il processo di comprensione di quello che è possibile o opportuno andare a proporre al cittadino è un processo per fasi ma io qua mi fermo su un livello molto alto perché Maria Cristina sarà molto più brava di me ad approfondire i dettagli di questi pezzetti vorrei chiudere su che cosa ne viene per chi opera nella pubblica amministrazione nell'adottare questo tipo di approccio da una parte è l'occasione di snellire procedure e processi perché invertendo il punto di vista chiaramente si vanno a scardinare alcune logiche dall'altra va ad aumentare la qualità dei risultati soprattutto per chi ha meno risorse nel senso che basandosi su materiale esistenti kit preimpostati e su addirittura pezzi di codice a riuso chiaramente si permette di operare su un livello più alto anche chi ha poche risorse e chiudo dicendo che chiaramente mettere al centro il cittadino è un processo che non può avvenire senza coinvolgimento e supporto dell'EPA sul territorio perché se volessimo vederla in un'ottica aziendale il centro deve fornire strumenti alle amministrazioni locali così che esse siano in grado di fornire un buon servizio al cittadino su questa mi fermo e aprirei alle domande se abbiamo tempo se ce ne sono non vi sento più sì allora propongo un po' di domande non ci sono particolarmente domande su questa parte non so se vuoi rispondere alle domande fatte anche a cavallo della comunicazione tra la comunicazione precedente e questa te le riporto riproviamo se me le sottolineate mi fate una cortesia alcune riguardano l'aggiornamento diciamo della data sui siti di Agid quindi se vuoi dopo le riproponiamo invece a Claudio quando si ricollega questo invoco l'aiuto del pubblico di Claudio ho riportato le domande se vuoi le puoi anche leggere a voce alta così chi le ha poste e volevo appunto le chiedevo se il libro di pubblicità legale è ancora obbligatorio e sul perché sul sito di Agid non c'è la data di aggiornamento su questo credo che di essere la persona meno titolata a rispondere infatti alcune le riproporremo a Claudio ci sono sono collegato ah Claudio ci sei ecco se vuoi rispondere allora allora io purtroppo vedo male qua sullo schermo ma cerco di visualizzarlo allora provo a spostare la barra sotto ah ecco qua sì sì eccolo qua vedo meglio ok allora perché non c'è la data di pubblicazione sì avete avete ragione ci sono è un argomento sul quale stiamo stiamo lavorando anche noi noi abbiamo un CMS che gestisce il come dire la possibilità di pubblicare le date siamo consapevoli del fatto che né il sito nostro è perfettamente accessibile né il sito nostro diciamo risponde in questo momento al 100% a quello che abbiamo messo sulle linee guida però ci stiamo lavorando anche perché insomma è oggetto di 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 costante di costante aggiornamento comunque in non compare in tutte le pagine però compare in molte pagine del sito Agile e allora poi è interessante sulla relazione tra le linee guida di design per i siti internet e servizi digitali e quella per i siti web della Pia sì allora il questo questo queste linee guida fanno riferimento alla all'articolo all'articolo 53 del del CAD in modo particolare e come vi dicevo come vi dicevo prima e sono adesso vado a prendermi velocemente così abbiamo eccolo qui il il testo diciamo che questo questo queste linee guida sono relative ai ai siti internet delle pubbliche amministrazioni poi è chiaro che il sito internet è anche un servizio e quindi sostanzialmente quello che noi abbiamo indicato non riguarda soltanto ed esclusivamente il sito web ma avendo indicato le metodologie con le quali o meglio sì le metodologie con le quali progettare un sito web va da sé che questa metodologia non riguarda soltanto il sito internet della pubblica amministrazione ma riguarda anche il servizio un servizio erogato al cittadino perché non è che si fa una ricerca sull'utente soltanto perché bisogna pubblicare o un monitoraggio di una pagina web si sta erogando un servizio in quel momento quindi diciamo che è innanzitutto una linea guida per il design dei siti web ma comprende inevitabilmente anche i servizi come in quanto il sito web è un servizio poi c'era altro per quanto riguarda la lunghezza dei titoli anche sugli atti sono molto prolissi sì sono molto prolissi qui c'è la questione della cioè anche i titoli dei file sono molto prolissi molto spesso vengono fatti dei titoli di file .pdf .doc che neanche Windows ce la fa reggerli e questo sta che dire al buon senso no dell'amministrazione non solo sono lunghi e sono prolissi ma sono anche incomprensibili quindi probabilmente quello che è il titolo dell'atto potrebbe essere un oggetto mentre il titolo potrebbe essere semplicemente qualche keyword molto meno molto più significativa ecco forse per l'utente che cerca ricordiamoci anche che anche appunto come diceva qui l'utente Valerio Pinna lato SEO io non vado a cercare vado a cercare qualcosa su Google che sia significativo per me e se quel documento ha quel titolo è più probabile che la che venga mi venga visualizzato insomma ecco quindi questo Claudio se posso aggiungere segnalerei il fatto che a livello di guide di guide pratiche che troverete presto all'interno di Designers Italia si sta facendo un lavoro di potenziamento dal punto di vista pratico anche lato definizione dei contenuti quindi un contenuto del materiale di indirizzo che aiuti anche in questi problemi che possono sembrare più triviali ma così triviali insomma non sono ok poi domanda sul tema delle analytics rispetto a Web Analytics Italia è corretto Web Analytics è uno strumento ad hoc perché chiaramente l'analytics di Google non rispetta in toto tutte le varie previsioni relative alla privacy degli utenti e al modo in cui vengono stati dati rispetto all'accesso ai diversi siti per cui sì di fatto è stato messo in campo uno strumento ad hoc anche in questo senso sì allora per quanto riguarda la domanda di Alessandro Itta ci sono solo 600 PIA registrate allora vabbè in parte che nel sappiamo appunto abbiamo visto anche nella slide di Marco Pedrazzo sappiamo benissimo appunto che sono molte sono le amministrazioni sono migliaia il progetto è iniziato o meno di un anno fa cioè il progetto è stato pubblicato o meno di un anno fa e sul per il prossimo anno prevediamo di fare un forte potenziamento di questa piattaforma e comunque se ha problemi nella registrare il sito mi sembra strano comunque abbiamo formato sempre abbiamo sempre insomma dato il più possibile un supporto alle amministrazioni che abbiano voluto fare l'onboarding immagino che lei abbia già letto tutto quello che c'è scritto sulle domande frequenti che sono online e comunque sì ci sono progetti di presenziamento e l'anno prossimo ci saranno importanti novità che adesso di cui parleremo in un diverso contesto insomma strumenti tecnici di progettazione sospenderei fino forse alla presentazione di Maria Cristina che indaga un pochettino più appunto i kit tecnologici che vengono forniti vengono domanda sul CMS sugli strumenti preconfezionati la sospenderei fino appunto all'illustrazione di Maria Cristina ok ok allora se non avete altre domande facciamo altre risposte facciamo la pausa va bene ditemi voi oppure avete ancora tre minuti da utilizzare per qualche altra risposta dunque no vedo qui la domanda di Kim Jim non so se sia un nome o un acronimo o comunque va bene non ha importanza secondo me mettete mettere come obbligatoria pubblicazione ovunque non ha senso pubbliche pagine giuste che è corretto siano ferme per anni poi viene fuori data del aggiornamento 2015 e magari uno pensa non sia più attuale e invece lo è il concetto del sito deve essere sempre attuale e aggiornare punto allora il sito deve essere sempre attuale e aggiornato è una indicazione che noi abbiamo fornito innumerevoli volte allora quello della data di pubblicazione vuole essere anche uno sprone all'amministrazione a verificare costantemente il sito e sappiamo perfettamente che molto spesso ci sono pagine dimenticate all'interno dello stesso sito e non faccio non faccio come dire non nascondo che possa esserci anche all'interno del nostro stesso sito non siamo esenti da errori per carità ma è facilissimo trovare allora il fatto di dire mettere una data anche se fosse 2015 benissimo l'utente sa che quella pagina è stata aggiornata poi è chiaro che insomma questo il fatto di mettere la data ha un impatto in termini di implementazione può essere semplice per nuovi siti dove io già progetto nuovi siti e predispongo sistemi di pubblicazione della data e quindi poi si aggiorna nel momento in cui faccio un aggiornamento diverso è per i siti storici che devono che pubblicano dati antichi comunque sia insomma dare invitare l'amministrazione a verificare l'aggiornamento del proprio contenuto di una pagina è utile e questo vuole essere uno strumento alla insomma alla una sollecitazione alla verifica dell'aggiornamento dei propri contenuti poi sono le 15.31 quindi lascio spazio alla breve pausa allora grazie grazie tante tanto riprendiamo appunto con la comunicazione di Maria Cristina Caratozzo che magari risponde a delle domande che sono rimaste in sospeso con i contenuti della sua relazione io vi invito a fare la pausa caffè ci ritroviamo alle 15.40 grazie a tra poco vedo che c'è in collegamento intravisto Maria Cristina Caratozzolo che è la nostra prossima relatrice e che potrà appunto rispondere con la sua comunicazione anche a delle domande in chat che sono rimaste in evase la introduco il titolo appunto della sua comunicazione è i kit di designers italia gli strumenti per la progettazione di un sito web Maria Cristina se provi a parlare vediamo se funziona tutto sì dovresti sentirmi e dovresti anche vedere lo schermo sì lo vedo un po' lo vedo bloccato però tu inizia a parlare ecco spero che adesso vediate correttamente la presentazione intanto buonasera a tutti io sono Maria Cristina Caratozzolo sono una UX designer presso il dipartimento per la trasformazione digitale e seguirò un po' riprenderò un po' il filo il discorso introdotto da Marco Maria Pedrazzo che ha appunto inquadrato l'approccio progettuale di designers italia illustrando quelli che sono i valori di riferimento i principi di riferimento partendo da quello che noi diciamo proponiamo come concetto di design quindi di progettazione entrando nel merito e quindi declinando quello che è il metodo il processo di progettazione che noi proponiamo attraverso la piattaforma designers italia questo processo si struttura di cinque fasi che incorporano quei valori che sono stati precedentemente esposti e che in sostanza permettono di impostare un processo di progettazione impostando ordinando le attività da svolgere in un progetto secondo una logica e una sequenza corretta è chiaro naturalmente che questo processo costituisce un riferimento metodologico che appunto dà i riferimenti generali per impostare correttamente una progettazione è chiaro poi che ogni ciascun progetto reale deve essere declinato e impostato secondo le necessità puntuali quindi le cinque fasi di progettazione che andremo a vedere nel dettaglio tra un attimo naturalmente saranno modulate e consisteranno di attività diverse di caso in caso questa metodologia di progettazione permette come dicevo di progettare di impostare correttamente un'attività di progettazione individuando anche quali saranno le competenze necessarie da coinvolgere in ogni singolo specifico progetto e di pianificare le attività appunto secondo queste necessità a cosa serve questa metodologia quando si applica beh il riferimento è corretto è utile sia che si tratti di progettare un servizio ex novo quindi un servizio che ancora non esiste e che deve essere quindi ideato pianificato progettato direttamente dal nulla diciamo così in digitale sia che si tratti di digitalizzare un servizio che invece esiste nel mondo analogico e deve essere appunto riportato invece nel mondo digitale chiaramente appunto ripensandolo a partire e riprogettandolo a partire dal processo la metodologia però è inoltre anche utile valida in tutti quei casi in cui si tratti di riprogettare uno strumento un touch point digitale o un servizio digitale che già esiste e già esiste in digitale e deve essere appunto però rivisto o aggiornato per diverse motivazioni che noi tutti sappiamo insomma i servizi digitali naturalmente non sono una volta progettati e rilasciati eterni tutt'altro quindi vanno molto spesso aggiornati e riprogettati come dicevo questa metodologia di progettazione incorpora incarna e permette di porre in atto di dare concretezza a quei principi a quei valori che poco fa sono stati esposti tra questi il concetto di iteratività è fondamentale perché dà forza sostegno e soprattutto permette di concretizzare il concetto di centralità dell'utente finale e perché propone una modalità appunto ciclica di progettazione non lineare che si che vede la sua attuazione attraverso cicli di progettazione e riprogettazione che passano attraverso delle valutazioni delle validazioni a diversi stati del progetto questo lo vedremo meglio tra un attimo importante è capire che per quanto come vi illustrerò le fasi le cinque fasi che proponiamo hanno una sequenzialità lineare logica l'ultima fase la quinta fase non è in realtà solamente l'ultima ma è anche la prima quella che innesca i cicli iterativi di riprogettazione andiamole a vedere queste fasi come dicevo l'ultima la fase che innesca le iterazioni è la fase di validazione cioè quella nella quale si svolgono attività di valutazione anche con utenti come vedremo la prima di queste fasi è quella che naturalmente dà la possibilità di organizzare pianificare un progetto a partire da questa prima fase poi si entra nel merito dell'ambito della progettazione bastando attraverso una fase di analisi che poi approda la progettazione alla realizzazione concreta dello strumento vediamo nel dettaglio come dicevo la prima fase è quella che noi chiamiamo organizzare è una fase di pianificazione che permette in sostanza di impostare l'organizzazione del progetto sia da un punto di vista operativo che gestionale sia dal punto di vista dei 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 tempi dei costi delle risorse necessarie in termini di competenze quindi delle risorse umane che saranno necessarie al raggiungimento degli obiettivi di progetto in questa fase in sostanza sono richieste competenze appunto di project management come si dice quindi di gestione di progetto di strategia in questa fase gli strumenti sono quelli classici della pianificazione di progetto quindi si utilizzano per esempio dei diagrammi di Gantt per individuare le tempistiche delle varie azioni e delle varie fasi di progettazione si fa un piano delle risorse necessarie dal punto di vista delle risorse umane delle competenze si fa un piano di budget quindi si definiscono tempi e costi per quanto riguarda la piattaforma designers Italia su questa dal punto di vista degli strumenti operativi di supporto alla progettazione a brevissimo verranno rilasciati due kit molto importanti il primo è un kit che aiuterà in queste attività di pianificazione di progetto per l'appunto che fornirà quindi strumenti per mettere insieme un piano di progetto completo in grado appunto di dare l'idea delle tempistiche della sequenza delle fasi e delle attività che costituiranno il progetto in questione l'altro è un kit anche questo molto importante e soprattutto che dà la dimensione del livello pratico di supporto che i kit di designers itali ad anno il kit privacy permetterà cioè di impostare un progetto per la realizzazione di un servizio pubblico digitale che tenga conto sin dalle primissime fasi di vincoli di aderenza alle normative sulla privacy che ciascun servizio prodotto digitale della pubblica amministrazione deve necessariamente rispettare in sostanza uno strumento che aiuterà appunto a tenerne conto sin dalle primissime fasi di progettazione in modo che il risultato finale sia diciamo rispettoso delle regole sulla privacy come si dice by design proprio per diciamo per default come risultato automatico del processo di progettazione una volta quindi stabilito un piano di lavoro per il progetto del servizio digitale che ci apprestiamo a realizzare si entra nel merito delle attività diciamo più strettamente di progetto la prima di queste attività di queste fasi è quella che noi chiamiamo comprendere è una fase di analisi di ricerca che permette in sostanza di conoscere il perimetro di riferimento del progetto del servizio quindi che dobbiamo progettare questa fase consiste nell'acquisire conoscenza e consapevolezza di chi sono i nostri interlocutori i cosiddetti stakeholder i soggetti cioè che hanno competenze specifiche di dominio nell'ambito al quale ci stiamo approcciando chi sono i nostri utenti finali quindi diciamo quali tipologie di utenti utilizzeranno accederanno al servizio che noi dobbiamo progettare e quale o quali saranno i contesti di utilizzo di questo servizio naturalmente questa fase è fondamentale è chiaro come sia imprescindibile conoscere e avere questo tipo di riferimenti che stabiliscono davvero un perimetro un'area di riferimento entro la quale il progetto stesso dovrà muoversi in questa fase quindi sarà necessario capire quali strumenti di ricerca e di analisi saranno utili per i nostri scopi specifici dello specifico progetto quindi bisognerà capire se sarà più utile impostare un tipo di ricerca primaria o secondaria o entrambe di ricerca cioè che permetta di andare direttamente a raccogliere delle informazioni dei dati o se sia più utile analizzare dati già esistenti già raccolti da altre ricerche se impostare un tipo di attività di ricerca qualitativa o quantitativa o di nuovo entrambe queste tipologie di analisi queste attività di ricerca sono supportate sulla piattaforma Designers Italia da molti kit tutti molto molto utili che permettono per esempio di impostare e realizzare una ricerca quantitativa attraverso un questionario online o invece di realizzare una ricerca qualitativa che consiste in interviste con stakeholder o utenti finali del servizio digitale in questione strumenti che permettono quindi di analizzare il contesto di riferimento e realizzare quella che viene definita la mappa degli attori e la mappa dell'ecosistema di un determinato servizio che permette che permettono di definire le relazioni vari livelli di approccio tra i vari attori coinvolti e il servizio di riferimento e soprattutto definire appunto una mappatura per esempio dei flussi di informazione che circoleranno all'attivazione del servizio in questione naturalmente in questa fase sono contemplate anche attività come per esempio attività di benchmark ovvero raccolta di buone pratiche ovvero di servizi digitali analoghi a quello che noi dobbiamo progettare che già esistono in altri contesti o in altri paesi e naturalmente prendere ispirazione da questi ultimi una volta quindi stabilito un perimetro di riferimento e quindi stabiliti quali sono i parametri i paletti diciamo così della nostra area di nostro dominio di progettazione si può iniziare ad approcciare la progettazione vera e propria la terza fase è quella nella quale in sostanza si inizia a dar forma a delle possibili soluzioni progettuali che rispondano al contesto di riferimento che inizino appunto a dare concretezza a quel servizio digitale che finora abbiamo solo individuato dal punto di vista dei requisiti fondamentali si inizia cioè a scendere ad un livello maggiore di dettaglio e lo si fa diciamo incorporando mettendo in atto un altro di quei principi che sono stati illustrati esposti nell'intervento precedente il valore della partecipazione del coinvolgimento degli utenti finali infatti in questa fase molto importante è coinvolgere nuovamente come è stato fatto nella fase di analisi in cui si è interpellato gli utenti finali in questa fase è importante di nuovo coinvolgerli per esempio in sessioni di coprogettazione cercare quindi grazie al contributo alla partecipazione diretta di potenziali utenti finali del nostro servizio di individuare i riferimenti fondamentali per esempio in termini di casi d'uso del servizio futuro in modo tale che sia possibile individuare riferimenti fondamentali su i contenuti le informazioni che lo strumento digitale dovrà veicolare per erogare correttamente il servizio in questione mi riferisco per esempio ad attività di design di progettazione dei contenuti che sono chiaramente attività fondamentali in questa fase perché permettono di organizzare costruire la cosiddetta architettura dell'informazione sulla quale Designers Italia appunto propone dei kit dei kit pratici quindi di supporto in questa attività architettura dell'informazione che rappresenta un po' lo scheletro la struttura che definisce le relazioni interne tra i vari pacchetti tra le varie porzioni di informazione che dovranno essere veicolate dallo strumento digitale che erogherà il servizio in questa fase si procede anche a dare una prima concretezza al layout dell'interfaccia che veicolerà il servizio digitale in questione si inizia ad impostare cioè un prototipo un prototipo a media definizione che potrà essere realizzato per esempio appunto utilizzando il kit di prototipazione proposto da designers italia che serve in sostanza ad impostare il modello di navigazione di un determinato strumento e a definire quali saranno i parametri principali che guideranno appunto l'esperienza che definiranno l'esperienza dell'utente nella fruizione del servizio stesso in questa fase dicevo appunto si cerca di nuovo di coinvolgere gli utenti finali e il risultato di questa fase è appunto un prototipo non ancora molto accurato che potrà per esempio però già essere utilizzato come oggetto di validazione cioè in questa fase si può già pensare di anticipare un'attività di validazione che vedremo nella fase 5 per consolidare il prototipo cioè la soluzione progettuale avanzata anche se ad uno stato ancora di bassa definizione una volta consolidata quindi una prima proposta un primo prototipo si può procedere a realizzare davvero e poi a sviluppare successivamente l'interfaccia dello strumento digitale in questa fase quindi attraverso in particolare lo UI kit proposto da Designers Italia è possibile dettagliare tutti i singoli passaggi che un utente dovrà fare nell'utilizzare il touch point cioè lo strumento digitale in questione per utilizzare il servizio e sarà possibile quindi entrare nei dettagli delle singole schermate che l'utente attraverserà per arrivare al suo obiettivo questa attività sarà possibile partendo da quei casi d'uso che saranno stati precedentemente individuati che dovranno essere quindi progressivamente dettagliati arricchiti di dettagli che individueranno le funzionalità necessarie dal punto di vista dell'interazione quindi degli elementi funzionali dell'interfaccia e permetteranno quindi di popolare le singole schermate in questa fase si dà all'interfaccia anche una veste grafica uno stile grafico quindi la prototipazione in alta definizione che è possibile attraverso come dicevo lo UI kit proposto da Designers Italia permette di attingere ad una libreria di componenti già pronte già dotate di stili e di caratteristiche appunto visuali che permettono di comporre in maniera piuttosto rapida dei prototipi ad alta definizione di quella che sarà l'interfaccia questi prototipi potranno essere statici o anche interattivi e questi ultimi naturalmente sono un'ottima base per un ulteriore ciclo di validazione infatti l'ulteriore passaggio dalla realizzazione dell'interfaccia quindi della UI dell'interfaccia utente in alta definizione al rilascio definitivo del servizio digitale è la fase di sviluppo naturalmente è chiaro che validare un'interfaccia a livello di prototipo seppure ad alta definizione è un'ottima strategia che permette di risparmiare in termini di costi eventualmente di rilavorazione di correzione di un prodotto già sviluppato quindi già scritto nel codice dicevo una volta però consolidato quindi questo prototipo ad alta definizione attraverso magari un ciclo di validazione sarà possibile procedere al vero e proprio sviluppo nel caso specifico degli strumenti offerti da Designers Italia il kit di sviluppo permette di nuovo di attingere ad una libreria di componenti pronte già sviluppate dal punto di vista del codice che hanno una corrispondenza uno a uno rispetto alla libreria dello UI kit quindi di componenti dicevo che sono presenti nella libreria di Bootstrap Italia e React che permettono di realizzare rapidamente l'interfaccia vera e propria quindi di di attingere a tra l'altro a risorse in molti casi open source quindi già direttamente utilizzabili e presenti sulla piattaforma come addirittura con dei template già pronti come nel caso dei modelli che poi più avanti vedremo e che approfondiremo come caso studio l'ultima fase che ho però più volte anticipato più volte citato raccontando le altre è la fase di validazione questa fase ha l'obiettivo come dicevo di valutare di validare le proposte progettuali fatte a diversi livelli quindi in diversi momenti del corso della progettazione in generale e di rinnescare questi piccoli cicli di iterazione quindi di riprogettazione secondo quel principio come detto del miglioramento continuo quindi del mirare alla soluzione ottimale attraverso un processo di progressivo avvicinamento a questa soluzione finale ottimale come si valida come si valuta un progetto un prototipo ai diversi livelli di definizione beh naturalmente le modalità di validazione e valutazione disponibili sono diverse in generale diciamo quelle più consolidate sono naturalmente i testi di usabilità che ancora una volta chiamano in causa gli utenti finali di un determinato servizio e che li coinvolgono direttamente e diciamo consistono in sessioni di utilizzo dello strumento o del prototipo progettato per metterne in evidenza eventuali mancanze o criticità o anche attività di valutazione che prevedono l'analisi di dati che provengono dall'uso di servizi digitali per esempio già esistenti già rilasciati già online quindi di analitiche di questo tipo di dati di utilizzo e magari di performance relativi al raggiungimento dei risultati da parte degli utenti analizzando questi dati questi dati di utilizzo naturalmente è possibile mettere in evidenza quali potrebbero essere dei punti di debolezza di un determinato sistema e capire appunto su quali eventualmente attivare un processo iterativo di riprogettazione quindi come detto in sostanza questa fase validare può essere anticipata a partire dalla fase 3 quindi dalla fase di progettazione quindi attivata già su un prototipo a media definizione e ancora di più a maggior ragione può essere attivata in particolare i test di usabilità su prototipi ad alta definizione o ovviamente anche sul servizio il prodotto digitale già sviluppato e già rilasciato come anticipavo all'inizio questa carrellata rapida diciamo delle cinque fasi del modello di progettazione dell'approccio alla progettazione naturalmente è un preludio al a quello che diciamo vorrei mostrarvi alcuni esempi di applicazione dei kit che sono contenuti in ciascuna di queste cinque fasi naturalmente non sarà possibile mostrare diciamo casi di applicazione di tutti i kit che sono molti ne ho scelti alcuni sperando insomma che risultino interessanti ma avete già risposto ad un ad un sondaggio prima dell'inizio di questo intervento alla fine dell'intervento vi chiederò poi di rispondere anche alla luce degli esempi mostrati quali kit vi piacerebbe eventualmente approfondire magari si potrebbe pensare poi a integrare negli incontri successivi con qualche esempio sulla base delle risposte che verranno date al sondaggio per mostrare appunto alcuni esempi applicativi dell'utilizzo di questi kit abbiamo scelto di utilizzare come caso studio il progetto per la realizzazione del modello di sito web per i comuni italiani come molti di voi sapranno su designers italia e oltre ai kit sono disponibili anche due modelli già pronti di sito web che sono stati progettati con riferimento a due tipologie di pubblica amministrazione le scuole da una parte i comuni dall'altra questi modelli sono appunto dei modelli di sito web già pronti utilizzabili nell'immediato dai comuni nel caso dei comuni italiani che possono personalizzarli diciamo hanno un margine di personalizzazione dal punto di vista dell'aspetto visivo e chiaramente possono riempirli con i loro contenuti naturalmente per arrivare a progettare questi modelli è stato attuato messo in atto il processo di progettazione che è stato appena esposto e sono stati ovviamente utilizzati i kit di designers italia in questo processo io ne ho scelti alcuni che appunto andremo a vedere insieme partendo dalla fase di comprendere quindi dalla seconda fase prevista dal nostro processo in questa fase tra le altre attività per la creazione del modello comuni sono state svolte delle attività di ricerca primaria diretta di tipo qualitativo ovvero tra le altre cose appunto è stata svolta una ricerca attraverso interviste con utenti quindi cittadini da una parte e stakeholder ovvero rappresentanti di quattro comuni pilota che avevano deciso di partecipare al progetto dall'altra quali sono le attività che si devono fare per impostare un'attività di ricerca qualitativa intanto bisogna identificare un panel di riferimento ovvero un gruppo di soggetti che parteciperanno alla ricerca stessa cioè che risponderanno alle nostre interviste bisogna poi definire un protocollo di intervista ovvero stilare la lista delle domande che vogliamo porre a questi soggetti ovviamente in modo che ci permettano di raggiungere i nostri obiettivi in termini di raccolta di informazioni questi dati i dati raccolti attraverso questo tipo di indagine dovranno poi essere categorizzati e raggruppati in macro categorie appunto si tratta lo ricordo in quanto una ricerca qualitativa di informazioni che dovranno quindi essere interpretate e come già detto categorizzate quindi non di dati che dovranno essere analizzati dalla interpretazione quindi di queste informazioni dalla loro categorizzazione sarà possibile poi identificare dei temi fondamentali ricorrenti che costituiranno dei parametri per poi procedere alla fase successiva di progettazione entrando nel dettaglio del progetto per il modello comuni è stato utilizzato quindi il kit per la realizzazione delle interviste sia con utenti come dicevo prima con utenti da una parte e con stakeholder dall'altra il kit contiene uno strumento per realizzare il questionario di reclutamento che permette di impostare dei criteri di ingaggio quindi di reclutamento per i soggetti partecipanti e di quindi raccogliere informazione sul possibile campione sul possibile panel e individuare tra i soggetti interpellati quelli più utili agli scopi della ricerca stessa naturalmente si cerca sempre di comporre un panel che risponda al criterio di varietà diciamo di competenze e di caratteristiche che quindi sia diciamo rappresentativo di uno spettro di tutto lo spettro che si vuole prendere in considerazione una volta scelto il panel di riferimento come detto è necessario stilare un protocollo di intervista che potrà essere semistrutturata o strutturata ovvero più o meno rigida nella sequenza diciamo nella obbligatorietà della sequenza delle domande e il kit il kit di designers italia contiene tutti gli strumenti che aiuteranno lo sperimentatore l'intervistatore a condurre correttamente le sessioni di intervista partendo dal fatto che i partecipanti dovranno all'inizio delle sessioni firmare una liberatoria che autorizzerà lo sperimentatore a raccogliere ed elaborare i dati che loro stessi gli forniranno e nei casi in cui questo sia necessario anche a registrare audio e video delle sessioni laddove appunto questo sia necessario lo strumento della liberatoria presente all'interno del kit sottolinea come i kit di designers italia sono davvero completi dal punto di vista del supporto pratico alle attività perché appunto permettono di rispondere in questo caso alle normative necessarie appunto sulla privacy ogni qualvolta si coinvolgano dei soggetti esterni all'amministrazione che sta svolgendo l'attività di progettazione inoltre all'interno del kit è presente una guida alla conduzione che accompagna l'intervistatore alla corretta conduzione dell'intervista stessa e quindi gli permette di seguire la traccia che egli stesso avrà precedentemente impostato e di prendere nota in modo tale che le informazioni verranno raccolte in maniera abbastanza strutturata da poter poi essere più facilmente elaborate a valle di tutte le interviste naturalmente ripeto che trattandosi di indagine qualitativa in questo caso è molto importante prendere appunto le note raccogliere le informazioni in un modo che permetta poi un'analisi non troppo costosa dal punto di vista del tempo e sarà necessario ad elaborare i dati qui vediamo un esempio tratto dal report sulla ricerca qualitativa svolta per il modello comuni e come vedete estratti diciamo in questo report sono presenti estratti delle interviste quindi frasi di nuovo stiamo parlando di dati qualitativi quindi quello che è importante tra le cose che emergono delle interviste sono i temi alcuni punti di attenzione che vengono lanciati dagli intervistati e questi temi chiaramente sulla base poi dell'analisi complessiva di tutte le informazioni raccolte possono essere strutturati ora qui vedete appunto altri esempi di frasi estrapolate dal report sull'attività svolta per il modello comuni che appunto servono a mettere in evidenza quali sono i temi più ricorrenti diciamo che costituiscono un filo conduttore tra i vari intervistati l'analisi l'interpretazione di queste informazioni ci permette ci ha permesso nel caso per esempio specifico del modello comuni di arrivare a questa sintesi che ha permesso di individuare nel caso specifico otto motivazioni principali per le quali un cittadino visita e utilizza il sito web di un comune queste quindi sono diciamo i temi più ricorrenti le motivazioni più ricorrenti che sono emerse dalle interviste e quindi dall'attività di analisi anche più generale che è stata naturalmente molto più estesa di così svolta appunto con i cittadini utenti di un sito web questa impostazione quindi questa sintesi della fase di analisi ha permesso poi di partire con la fase di progettazione successiva nella fase appunto di progettazione si è partiti da quelle otto motivazioni principali per fare un step successivo un passaggio successivo che ha portato all'individuazione di prima di scenari di riferimento ovvero di casi tipici di utilizzo del sito web di un comune da questi ancora un passo di ulteriore dettaglio verso diciamo la definizione di tutti i passaggi che un utente deve fare che un cittadino fa per arrivare ai suoi obiettivi utilizzando il sito web di un comune e infine ha condotto all'impostazione del prototipo quindi della prima proposta progettuale dell'interfaccia di un sito di un comune qui vediamo lo screenshot dell'utilizzo del kit per la realizzazione degli scenari come vedete per il modello comune sono stati estratti a partire da quegli otto obiettivi che abbiamo visto prima sei scenari di riferimento gli scenari sono dei racconti narrativi di casi tipici di utilizzo di uno strumento di un servizio digitale quindi ancora in forma molto narrativa e molto ad alto livello a partire da questi è possibile quindi fare un passaggio ulteriore e specificare per esempio se prendiamo lo scenario numero due scoprire gli eventi in programma e l'orario di apertura di uno spazio espositivo che ha una sua narrazione per cui il soggetto in questo caso la persona ovvero uno dei utenti tipici che sono stati individuati attraverso lo strumento personas si trova in una determinata città e è interessata a vedere quali eventi ci sono in quel comune nel fine settimana si recherà sul sito lo scenario rimane quindi ad un livello molto alto di narrazione è necessario partire da questo per dettagliare maggiormente i singoli passaggi che l'utente dovrà fare per arrivare al suo risultato qui sulla destra vedete due screenshot Cristina ti volevo solo avvisare che hai finito il tempo e ci sono delle domande quindi insomma calcola che abbiamo circa 12 minuti a disposizione secondo il mio pronomino mancano ancora 5 minuti alle 16 e 15 erano previste le domande quindi però regolati tu fra le domande ti dico che ci sono 4 domande quindi tra quello che devi dire e poi le domande a cui rispondere va bene allora evidentemente insomma non so il mio cronometro sta va bene vado avanti allora velocissimamente diciamo arriviamo voglio mostrarvi almeno la differenza dei vari livelli di prototipo questo è un prototipo a media definizione quindi realizzato attraverso il kit wireframe quindi il kit di prototipazione offerto da designers italia come vedete presenta le caratteristiche fondamentali del layout di un'interfaccia senza una maschera grafica è in sostanza realizzato in bianco e nero il passo successivo nella fase di realizzazione la nostra quarta fase è quello che permette di realizzare invece un prototipo come questo che ha una maschera grafica che quindi è del tutto simile a quello che diciamo sarà l'aspetto che il sito web avrà una volta messo online e che può essere realizzato anche attraverso un prototipo interattivo ora dovreste vedere un video dell'interazione con un prototipo appunto questo non è il vero sito del comune di Cagliari ma è un prototipo interattivo ad alta definizione che come vedete ha tutte le caratteristiche di un sito reale permette quindi una navigazione vera e propria ed è un'ottima base per fare test di usabilità per esempio quindi per il caso il modello comuni è stato realizzato un prototipo di questo livello il passo successivo è stato quello di sviluppare l'interfaccia usando le librerie Bootstrap Italia e React che hanno permesso quindi di creare dei template che sono attualmente e hanno questa veste e sono attualmente disponibili sul portale di Designers Italia e sono direttamente scaricabili e utilizzabili dalle amministrazioni che quindi possono direttamente appunto come hanno sono software tipo Open e quindi possono usufruirne direttamente detto questo io ho concluso segnalo solamente questo appuntamento della prossima community call di Designers Italia che sarà il 24 novembre per tutti gli iscritti naturalmente alla community o chiunque si voglia iscrivere e questi sono i nostri contatti grazie scusate se allora sono andata oltre il tempo dovuto no non ti preoccupare ma diciamo adesso vediamo ci sono delle domande quindi io te le pongo se puoi riagganciare alle domande anche la parte che hai diciamo che hai esposto in maniera più rapida fermo restando che appunto ho messo anche il link alla community di Slack dove poi si può approfondire e anche quello che oggi non è stato non è stato possibile approfondire allora le domande Luca Trevisan chiede il kit per i comuni può essere utilizzato per generare siti anche di altre PA per esempio provincia e regioni eh allora certamente diciamo non il il modello comuni e il modello scuole sono disponibili eh possono essere utilizzati liberamente naturalmente quindi niente vieta che possano essere usati come riferimento eh per altre tipologie di amministrazioni detto questo però eh va specificato che eh il il modello comuni è stato appunto costruito pensando alle esigenze dei comuni quindi come tipologie di amministrazioni e quindi ha un'architettura informativa prevede una serie di voci di menu che sono adatte alle esigenze di un comune che non saranno chiaramente uguali a quelle di una regione per esempio quindi io consiglio nel caso in cui si voglia far riferimento comunque ai template ehm del del modello di rifare però almeno prevedere una fase di analisi di raccolta di requisiti con gli stakeholder o con utenti per eventualmente modificare l'architettura dell'informazione del modello comuni adattarla alle esigenze del dell'altro ente ok ma poi c'è Valerio Pinna che dice prevedete di rilasciare i componenti anche in material design o altri stili oppure suggerite di seguire quelli bootstrap IT e React allora riguardo agli stili va detto che appunto si fa riferimento allo UI kit che prevede appunto una libreria di componenti che sono già seguono già gli stili impostati dal design system della pubblica amministrazione definito appunto da designers italia quindi lo stile da utilizzare chiaramente non è mandatorio ma è fortemente caldamente incoraggiato insomma utilizzare quello di riferimento dello UI kit dopodiché non mi ricordo la seconda parte della domanda che cosa chiedeva chiedeva se altri stili bootstrap IT e React e allora sì la libreria sì no se se posso supportarti in qualche modo sicuramente c'è un lavoro di aggiornamento delle librerie per avere insomma elementi tecnici successivi che è in campo per il insomma per i Q2 dell'anno prossimo detto questo non è fatto per versionale stili diversi perché quello che cerchiamo di proporre al cittadino è l'uniformità anche dell'immagine del comportamento degli elementi ok allora poi c'è un'altra per quanto riguarda React e Bootstrap IT in Italia va detto che appunto il kit di sviluppo ha già una corrispondenza uno a uno con la libreria dello UI kit quindi è già diciamo tutte le componenti sono già tradotte in codice col codice pronto ok allora se ti posso porre un'altra domanda Nicola Prantil dice non riesco a capire se il modello esempio questo dei comuni va applicato così com'è o migliorato personalizzato allora il modello comuni è appunto è stato realizzato pensando alle esigenze dei comuni è stato poi ci sono diversi casi di applicazione che poi vedremo tra l'altro negli incontri successivi in cui faremo proprio un approfondimento verticale sul modello quindi magari ne parleremo meglio è stato poi in alcuni casi di applicazione adattato per esempio a delle esigenze specifiche di alcune categorie di comuni per esempio mi riferisco ai comuni molto piccoli quelli con meno di duemila abitanti che hanno necessità più ristrette dal punto di vista dei contenuti e che quindi hanno per esempio adattato l'architettura dell'informazione le voci di menu alle loro esigenze però ecco lo vedremo negli incontri magari successivi sì sì poi c'è un'ultima domanda che in realtà è un'informazione perché Crescenza OLK dice insieme ad altri ragazzi abbiamo e stiamo ancora sviluppando un tema Drupal 8-9 con Bootstrap Italia utilizzabile sia per comuni sia per le scuole come è possibile inserirlo nella pagina dei progetti di Bootstrap Italia deve essere messo sul catalogo del riuso può essere aggiunto al catalogo del riuso come è previsto peraltro insomma per tutto diciamo quello che viene prodotto per i servizi pubblici digitali quindi si può accedere al catalogo del riuso e condividere il prodotto insomma c'è una procedura che viene spiegata chiaramente adesso allora ci sono altre domande che vengono fatte adesso in chat farete un webinar sullo sviluppo del modello scuola un webinar intero non credo che sia previsto non so se ci sono dei cenni nelle prossime nelle prossime comunicazioni nelle prossime lezioni previste poi se si hanno delle competenze in Angular consiglia lo stesso di utilizzare di React questa è una domanda a cui dovrebbero rispondere nelle successivi incontri credo sia il quarto incontro in cui ci saranno degli sviluppatori dei developer che hanno diciamo maggiori competenze in questo ambito io non ok va bene poi ci sono i ringraziamenti non so se vuoi diciamo concludere qualcosa che su cui ti ho interrotto prima non volevo essere brusca eh Maria Cristina perché abbiamo no no ci mancherebbe anzi grazie perché evidentemente io avevo diciamo una temporizzazione sbagliata no direi che insomma sono andata un po' veloce nell'ultima parte ma insomma abbiamo credo visto i casi applicativi più importanti non voglio rubare altro tempo alle conclusioni successive direi che allora io voglio soltanto dire questo intanto ringraziare i nostri relatori perché sono stati diciamo assolutamente esaustivi rispetto al tema previsto quando le aule sono numerose come questa e abbiamo sempre moltissime domande però vi vorrei dire che molte di queste domande come appunto diceva anche Maria Cristina Caratozzolo adesso alla fine anticipano dei contenuti che saranno sviluppati nei prossimi webinar quindi vi chiediamo naturalmente di partecipare ai prossimi webinar e di pazientare perché ci saranno altri esperti che risponderanno ci saranno in parte gli stessi in parte altri esperti esperti che risponderanno poi a queste domande io diciamo lascerei la parola a Stelio Pagnotta di Agid per delle conclusioni e poi vi darò l'appuntamento al prossimo webinar Stelio ci sei? eccolo lascio la parola a lui sì no in realtà mi limito a dire che da non esperto della materia gli interventi sono stati assolutamente interessanti e mi hanno permesso una considerazione rispetto al fatto che comunque molto probabilmente fino a qualche tempo veniva considerato come un tema Stelio non ti sentiamo più devi parlare più vicino al microfono è successo qualcosa mi sentite? ecco adesso sì diceva no veniva considerato come un tema forse un po' per smanettoni in realtà tutto questo processo che è stato messo indietro che sia un forte a parte di design ma anche di regolamentazione pensiamo alle linee guida al fatto che si fa riferimento a questo Stelio non so cosa succede però devi devi parlare un po' più vicino al microfono perché è come se tu fossi come se ti allontanassi anche se vedo che lo tieni sempre vicino non so non so perché ecco così se chiamo ok rimarrò bloccato così senza muovermi comunque dicevo che c'è un forte in tutto questo processo c'è un forte link tra tutta la parte di design e la parte di insomma di definizione anche normativa sia con le linee guida che col piano triennale per cui secondo me è importante sottolineare ogni volta che poi non è che si parla di design perché è bello che un sito sia verde piuttosto che giallo o che sia usato un font piuttosto che un altro ma perché siamo ovviamente nell'ambito e nella necessità anche di garantire una serie di diritti ai cittadini attesa che oggi il sito web è spesso l'utente mi sembrava importante solo in parte da auditore per poi di oltre questa considerazione poi lascio a te il rimandare allora eccoci nella parte finale ti abbiamo sentito un po' male comunque io volevo ringraziare tutti ringraziare ringraziare anche Michela Gabrielli che è la responsabile diciamo poi scientifica del dipartimento per la trasformazione digitale di questo ciclo di webinar e che ci segue sempre diciamo in maniera silente dietro le quinte e allora vi do l'appuntamento al prossimo martedì sempre 14.30 16.30 il 16 novembre per allora per sviluppare questo tema qui il modello dei siti web dei comuni italiani e il tema dell'accessibilità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali ci vediamo il 16 novembre in chat vi abbiamo messo il riferimento alla comunità Slack del sito di Designers Italia dentro cui potete approfondire molti dei temi che sono stati trattati oggi entrate proprio in una mentalità di community quindi ci sono ci sono dei vostri omologhi che in qualche modo si occupano di sviluppare servizi pubblici e di migliorare e riprogettare i siti web dei comuni e vedrete appunto che il tutto è tematizzato e quindi potrete entrare nelle discussioni che più vi interessano il link per collegarsi vedo adesso dalla chat aspettate sempre la nostra mail dovrebbe essere lo stesso ma comunque vi avvertiamo sempre prima dell'avvio del webinar così appunto vi riuscite a collegare e potete dire ai vostri colleghi interessati che per la prossima settimana le iscrizioni rimangono aperte infatti chi si iscrive adesso può ancora conseguire l'attestato di partecipazione perché avrà partecipato a tre webinar su quattro se continua a partecipare fino all'ultimo io vi ringrazio ancora e vi do appuntamento alla prossima settimana grazie a tutti e arrivederci grazie